Ciao, ci presentiamo, sono Chiara, ho 26 anni e provengo da Ponte di Piave e poi c'è Marta, ho 23 anni e vengo da Montaner nel comune di Sarmene. Abbiamo partecipato l'anno scorso a maggio ad un progetto che si chiama Euro Giovani On 3.0 e grazie al quale siamo andati in Benin per una ventina di giorni. È stata un'esperienza bellissima. Sì, andare in Africa non è una passeggiata, si vivono molte cose, molte esperienze e non è facile. Si viene a casa pieni, talmente tanto pieni che quando le persone ti chiedono di raccontare dell'Africa non si sa bene e si rimane in silenzio. È tutto quello che rimane di bello, è tutto dentro e te lo porti con te. Sono esperienze da vivere e da raccontare è sempre difficile. Questa sera con noi a Sarmede c'era La musica non ha confini, un gruppo fantastico di 35 persone arrivati da Belluno. Eccoli! Che ci hanno spaccato, hanno fatto un casino assurdo. Nella prima parte invece io e Chiara abbiamo raccontato un po' la nostra esperienza, le nostre sensazioni. Più che un racconto, come si può dire, didattico, è stato proprio un passaggio di emozioni. Ecco, abbiamo presentato un video, abbiamo condiviso. Adesso giù stanno bevendo e mangiando cibo africano, bea di loro. E se volete riprovare tutte queste sensazioni, vi aspettiamo il 3 dicembre. Pre il Cinema Cristallo a Oderzo, che sarà un super mega evento. E un super concerto di Natale. A presto! Ciao! Ciao! Ciao!